con un mtate of mind ade ode ante rambo e nish e vengono a te chromi cacu di valenena buon morsena alle lì bene a tutti amici qui fanno i 11 oggi siamo su in un nuovo vlog alle 6 di mattina ragazzi questo come vedrete dal titolo lo chiamerò vlog pre alba ragazzi veramente ho fatto l'alba oggi mia madre mi si incappetterà vabbè sia però non fa niente non me ne fai un cazzo ecco siamo con mia sorella e zifo il pinguino grazie raga bella dai fai 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 no no tu dai me spiegare che cazzo c'è da guardare mi sta cominciando a perdere no apposto questo mi sta guardando questo qua di fianco con la macchina mi sta guardando non lo posso fare inquadrare perché sennò mi spacca la faccia no ok ragazzi tipo adesso stiamo tornando a casa siamo stati ecco ecco stiamo tornando a casa siamo stati al compleanno della sorella che ci vuole il pinguino e gli auguro ancora tanti auguri basta che non muoio barcollo ma cavallo va bene la prima fase ci vuole in mente domani penso che mi sveglierò sempre la stessa ora o anche più tardi forse non lo so sicuro come si è fatto tu proprio ragazzi 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 come ho già detto stiamo tornando a casa adesso vi faccio vedere fuori tipo una cosa finta sta parlando tipo l'alba ma adesso perché non si vede molto va bene mia madre tanto ci è abituata perché l'estate ragazzi facevo sempre l'alba perché mi piaceva stare su youtube a guardare video di youtuber che piacciono a me allora mi mettevo sul letto di mia sorella quando non c'era e stavo fino alle 8 del mattino a guardare video su youtube capitemi non sono molto molto bella ok e niente sono stanchissimo voglio andare a dormire spero che ci andrò presto perché sono veramente stanco però la serata mi è piaciuto un botto ragazzi e spero di rifarla e basta per questo vlog abbiamo finito qui lasciate 5 like come sempre iscrivetevi se l'avete ancora fatto condividete il video commentate noi ci vediamo al prossimo video